Oh, sono molto felice perché oggi è una puntata super interessante. Sono qua con Filippo che sono mesi ormai che cerco di incastrare per fare questa registrazione. Ciao Filippo, benvenuto. Ciao, ciao, grazie. Grazie per finalmente avermi beccato qua online. E come dire, la puntata di oggi è interessante perché Filippo è uno di quelle poche persone che vedo online in Italia che appartiene alla risicata nicchia dei nerd web3 ma che non si limita solo a fare come fanno in tanti che buttano fuori notizie e tengono giornati ma cerca sempre di tirar fuori anche dei ragionamenti o cercare di far pensare le persone con l'obiettivo appunto di far entrare sempre più appassionati, sempre più professionisti nello spazio del web3. La puntata di oggi è figa perché si parlerà di come poter sviluppare un progetto, una collezione, un NFT senza essere sviluppatori. Filippo è uno degli esperti che anch'io seguo e che mi piace perché comunque, come dicevo prima, dà tanti spunti. Fa un lavoro che è molto inerente a questo mondo, adesso ce lo racconterà, ma prima di tutto la sigla. Ciao Filippo, allora raccontaci qualcosa di te, cosa fai di lavoro e come sei entrato in questo magico mondo. Certo, ciao Eugenio e grazie per avermi invitato, ci abbiamo messo un pochino come ti contavi all'inizio, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro è stato divertente quando il primo contatto è stato proprio al ridosso di quello che è NFT London, quindi proprio meglio di questo non poteva esserci. Esatto. Ma guarda, io allora sul web3, diciamo mondo blockchain in generale, mi ci avvicino un po' per caso nel 2017, quindi poco prima del secondo barra terzo momento di bear, quindi quello che poi è durato un bel po', che ha fatto scendere bitcoin anche al valore di 1000 euro. Sinceramente mi sono avvicinato più per curiosità che per altro. Io vengo da un mondo di start-up, quindi vengo da un mondo di innovazione, era in quel momento in tanti ne parlavano, io non sapevo nulla di questo mondo, ho detto vabbè avviciniamoci, sai, come tanti di noi, proviamo a capire che c'è bitcoin, eterium, ne ho comprati quei due e tre, ma veramente pochissimi importi, e niente, poi me ne sono andato completamente lasciato, fino al 2020, quando per un caso, diciamo in quel momento, stavo lavorando a Torino per una società fintech, lanciamo un etf su bitcoin, e quindi mi dico, ma aspetta, fammi un attimo studiare sta tecnologia, perché non l'ho mai vista, o meglio, quando l'ho vista non l'ho mai approfondita. La realtà dei fatti è stata appunto che mi sono infognato, quindi sono entrato nella tana del bianconiglio, come tanti di noi, e ho cominciato più a guardare la tecnologia e a studiarla, io uso una formazione economica, quindi quando parli di criptografia simmetrica, chiave pubbliche e chiave privata, per me era tipo, cosa? Non ho idea, quindi ho cercato di pian piano studiare la tecnologia, farla mia, raccontandomela in primis, e provandola a raccontare, quindi in realtà poi quel lavoro che dici tu di contenuti, l'ho cominciato a fare ad inizio di quest'anno, più per capire se tutto il racconto che mi ero fatto io nel tempo, aveva senso, e quindi avere anche un po' di social proof, e uscire dalla bolla in cui viviamo, una bolla per alcuni, per tanti diciamo un po' nerd, che però poi ha tante implicazioni nella vita reale, nella vita pratica, che stiamo vedendo giorno per giorno, dove in realtà se tu provi ad astrarre dalla speculazione, ad entrare un pochino nel mondo più tecnologico, capisci che hai tantissime possibilità, che però magari non prendiamo perché, perché diciamo no, gli NFT sono delle immaginine, sono delle scimmiette o delle immaginine pixelate, che costano un sacco, oppure le criptovalute, sì le criptovalute sono uno scam, senza magari poi soffermarci veramente su quella che è la tecnologia, quindi in un percorso graduale, continuo, continuativo, che da privato, da Filippo mi ha portato diciamo a scoprire questo mondo, a penso entrare più di 150 discord, conoscere persone la qualsiasi, diciamo in giro per il mondo, prima online, scusami, e poi IRL, come si dice, in real life, arrivo ad agosto di quest'anno, diciamo ero già entrato da un anno prima in una banca italiana, a ricoprire invece il ruolo di responsabile della parte Web3, Crypto e Metaverse, la banca non specifica è Banca Sella, quindi dove andiamo appunto a studiare questa tecnologia, come dicevo prima, astraendoci un po' dal mondo speculativo, anzi astraendoci completamente da quel mondo, e capire quali basi puoi mettere in tutto, con la blockchain, con gli NFT, fino al metaverso, perché poi in realtà, quando è la tecnologia che guida, le opportunità sono tante. Certo, hai detto bene, poi insomma una banca che sta iniziando un percorso, ha iniziato un percorso di analisi, di studio, di applicazione in questo mondo, insomma ci dà anche da pensare che effettivamente tutta questa bolla dei JPEG, forse non lo è, se le istituzioni si stanno muovendo, appunto anche assumendo dei professionisti che poi si devono essere dedicati a questa, a questa nuova sfera, vuol dire che c'è qualcosa dietro che appunto va al di là della speculazione o di quello che leggiamo spesso sui giornali. Dove ti trovi tu adesso? Io sono di base a Milano, come puoi sentire dal mio accento, non sono chiaramente milanese, sono di un paesino in provincia di Viterbo, però dopo aver girato un pochino, ecco alla fine ho trovato da un annetto la base qui, quindi diciamo che poi è una base provvisoria, perché poi come ci raccontavamo prima, come ci siamo raccontati spesso in chat, magari a un certo punto ti ho detto senti ma proviamo a fare la diretta da NFT London, oppure la diretta dal WebSub, che stando spesso in giro e facendo magari incontri anche un pochino più di partnership, un pochino più strategici, sei portato anche spesso a viaggiare, però di base ecco perlomeno la casa in cui mi trovo in questo momento è a Milano. Guarda, il tema di entrare, anche perché ci si ascolta, diciamo non dico che sono tutti boomer, perché in realtà ci sono anche persone che stanno seguendo, che stanno approfondendo, quindi sono molto contento di averti qua oggi perché puoi portare veramente valore anche alle persone che vogliono entrare più nel merito. Il fatto che quando si entra in questo mondo, perlomeno è stato così per me, mi sono sentito sovrastato dalle cose, c'erano talmente tante cose da capire dal livello tecnologico, lo storytelling, la community, un cambio di paradigma che non può far altro che evolversi lato nostro per formarsi solo parlando con le persone, quindi come hai detto tu, Discord, tanto tempo passato a far domande, a leggere, a approfondire, a guardare video di chi magari oltreoceano era già molto avanti, mi ricordo 2020-2021 ascoltavo spesso Gary Vee che iniziava il suo percorso di formazione della sua community come lui, Zeneca, adesso Zeneca avrò anche piacere di ospitarlo le prossime due settimane in un talk e tu hai fatto anche un'esperienza molto interessante di andare a vedere questi eventi internazionali dove ci sono comunque, dove si sta disegnando un po' anche il futuro, non dico dei prossimi anni perché va talmente veloce che da un mese all'altro succedono cataclismi, cataclismi positivi, intendo, però sono curioso cosa ti ha lasciato per esempio gli ultimi due eventi dove hai presenziato, c'è qualcosa che in particolare ti ha colpito o ci vuoi dare qualche anteprima su qualche progetto che secondo te è così un qualche killer app o qualche applicazione che potrebbe portare una massa d'option o comunque potrebbe portare come dire ancora più cultura anche alle persone che ancora prendono le distanze. Certo, certo, ma allora diciamo che gli eventi si stanno, io sono stato a questi eventi che diciamo sia quelli un pochino più tecnici quindi dove vai nel dettaglio della tecnologia, quindi la tecnologia blockchain e di quelle che sono le applicabilità sia un pochino più legati a quelle che sono chiaramente le opportunità nel settore del finance fino ad arrivare a quelli un filino meno tecnici ma la realtà dei fatti tipo NFT London quindi verticale sugli NFT la realtà dei fatti è che per esempio nel talk che ho ottenuto io insieme all'altro panelist l'altro panelist era un CTO quindi un responsabile della parte tecnologica con vent'anni di esperienza nel mondo del fintech e almeno dieci anni di esperienza nella parte di programmazione e sviluppo di Ethereum quindi in realtà stai parlando con una persona che non dico che ha messo le basi di solidity dieci anni no poi Ethereum stiamo parlando forse sette anni ok quindi ho detto mi sono spinto un po' troppo però sin dall'inizio ha toccato con mano Ethereum prima dieci anni l'esperienza appunto in scrittura sulla blockchain quindi se vuoi ha definito un po' i paradigmi no? e quindi le logiche sottostanti quello quindi che ne ha derivato è che anche per eventi dove che potenzialmente potrebbero essere percepiti come NFT New York NFT London come eventi di hype eventi dove trovi Yuga Labs quindi Bored Ape e Dead Fellas dove trovi Artifact e dove trovi Gary V la realtà dei fatti è che si trovi anche quello soprattutto li trovi nei side event che sono obiettivamente molto divertenti ma dove io ho conosciuto persone che non mi sarei nemmeno aspettato potessero essere nel mondo da dottori medici di vario tipo fino a chiaramente persone che magari si occupano di treasury di asset management quindi completamente però coinvolti non dall'aspetto di trading ma dall'aspetto di quello raccontavi tu dello storytelling della lore del racconto quindi quello che vedi è che sono di pari passo ormai due mondi dove c'è chi è attratto dal racconto dallo storytelling dall'avere una proprietà intellettuale di un digital asset su cui costruire pensa a tutti i casi che sono usciti fuori con Bored Ape mi prendi Bored Ape e faccio Bored and Hungry quindi faccio il ristorante oppure mi faccio leggevo che tra l'altro un birrificio italiano un birrificio Umbro ha fatto un'edizione speciale utilizzando l'IP di un Bored Ape non ho idea se l'IP del Bored Ape sia se loro possegano o meno un Bored Ape però hanno un'edizione speciale con un Bored Ape quindi trovi persone che utilizzano lo storytelling e l'intellectual property per farci leva e creare qualcosa nel mondo reale portandosi dietro una community quindi portandosi dietro una nicchia e invece tante altre persone che dicono l'NFT non è nient'altro che una tecnologia che posso utilizzare per qualsiasi altra cosa dalla digital identity al factoring del credito dall'health care fino al real estate quindi vedi un evolversi verso un mondo dove finalmente si è passi andati beyond the hype come dico sempre io quindi oltre l'hype di dire sta roba qua è assolutamente solo speculativa la verità è che non è così è cambiato molto rispetto a sei o nove mesi fa anche il comportamento di chi compra di chi vende il mercato anche i lanci che non so dicembre 2021 uscivano collezioni su collezioni centinaia di collezioni a settimana dove ovviamente l'obiettivo era scammare il più delle volte però adesso sta prendendo veramente piede quello che l'esperienza che non puoi compare con i soldi quindi ho visto anche un paio di giorni fa Porsche che adesso è l'ennesimo brand luxury automotive che inizia che vuole lanciarsi e se prima percepivo queste notizie un po' come l'ennesimo buzz per fare per far notizie in realtà si sta delineando un'attività di questi brand che hanno una visione cioè sono corporation grandi che non lo fanno per soldi e lo fanno veramente perché è la giusta visione di questo web trick è quello di costruire insieme ai consumatori che diventano poi fan e poi holder chiamiamoli un po' come vogliamo qual è secondo te mi piace mi sollettica l'idea di sentire proprio la tua opinione qual è secondo te un'industria in particolare che vedrai veramente veramente rivoluzionarsi da qua ai prossimi 5 anni magari anche sotto l'aspetto che non non li chiameremo più NFT anche perché è un nome scomodo quasi quasi brutto adesso si porta dietro una nomea che nel 2021 era il trend della keyword per eccellenza adesso sta diventando quasi una cosa negativa però qual è che vedi come tra i vari settori uno che potrebbe veramente cambiare faccia e migliorarsi poi grazie a questa tecnologia certo ma guarda in realtà aggiungo un dettaglio sono perfettamente d'accordo con te cioè nel momento in cui non la chiameremo più blockchain non li chiameremo più digital asset non li chiameremo più NFT e il caso di Reddit ce l'ha dimostrato allora ci sarà un'adozione importante detto questo io credo che per sua natura l'NFT avendo una caratteristica di unicità di tracciabilità di trasparenza ma soprattutto di indivisibilità quindi uno a uno noi nel mondo NFT si dice sempre se becchi l'uno a uno di una collezione hai fatto bingo perché hai beccato il migliore della collezione hai beccato il più raro ma la realtà dei fatti è che di sua natura un NFT è uno a uno ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse se provi ad astrarlo da una collezione quindi dove potenzialmente già dentro una collezione sono uno a uno perché sono numerati quindi al netto di tutti i dati che ci vuoi scrivere dentro al netto del fatto che tu puoi metterci gli stessi tratti gli stessi metadati e tutto se tu li numeri già hai creato degli uno a uno 1200 è diverso da 1201 e così via se parti da questo assunto puoi dire in ogni contesto dove io ho una rappresentazione uno a uno dietro allora potenzialmente puoi creare puoi utilizzare la leva degli NFT per qualsiasi cosa per quello che vuoi andare a creare quindi astraendo e provando a guardarla dall'alto qualsiasi business vive di uno a uno perché qualsiasi business vive di persone e quindi se vuoi in qualche modo arrivando all'assurdo potremmo quasi dire che noi siamo degli NFT cioè noi siamo una rappresentazione reale di un asset digitale quindi se tu lo traspondi e dici ok Filippo Chiricozzi e Eugenio Giovanardi hanno un loro digital twin capisci che puoi far parlare tutti i mondi provando a andare un pochino sul concreto ci vedo una grande applicabilità dove la proprietà è un qualcosa che allunga molto i tempi quindi il possesso di un asset come potrebbe essere l'arte ecco perché già ad oggi se tu vedi tutto quello che è crypto art ma in generale l'arte con una trasposizione crypto sta esplodendo ancora di più quindi perché ci sono ho visto ieri è stata mintata una collezione su fx se non ricordo male di vorrei dire kandinsky però potrei dirti una cavolata o comunque prende l'arte l'idea artistica di kandinsky e tramite arte generativa crea dei nuovi pezzi oppure puoi vedere artisti come per esempio macbase che vanno su cellmates creano una collezione ad hoc e la fanno diventare quasi di adozione mainstream perché poi nel tempo hanno collaborato con Bored Ape hanno collaborato con tante altre realtà quindi sicuramente l'arte sarà una wave importante in questo momento ultimo ma non ultimo Rare Pass con il Rare Pass Genesis quindi una roba che ti dà 12 airdrop di uno a uno dei migliori artisti a livello mondiale quindi già questo ti fa pensare lo step successivo potrebbe essere declinato io non ci vedrei nulla di male se il mondo del real estate fosse veramente intaccato dal mondo degli NFT perché paradossalmente bypassi tante cose tutto quello che tu prima mettevi in tanti fogli di carta lo chiudi dentro uno smart contract che locca un NFT quindi che chiude dentro un NFT che si sblocca solamente al pagamento di un qualcosa quindi il real estate ce lo vedo molto vicino come io per esempio sono un grande fan e spero che accada quindi se qualcuno in questo mondo ci ascolta in questo mondo ci dovesse ascoltare fatelo accadere nell'health care quindi quanto sarebbe bello non dover andare in giro con dei plichi di fogli alti così da portare di volta in volta nelle visite specialistiche ma averli all'interno di un wallet o averli all'interno di una nostra identità digitale secondo me in questi due mondi c'è un mare magnum di opportunità che poi se vuoi a cascata entrano astraendo sempre in quello che è la digital identity quindi in quello in cui diciamo abbiamo una nostra identità digitale ben verificata con un KYC che sia potenzialmente molto più forte un KYC che apra tante opportunità diverse un KYC che non ci dica necessariamente questo wallet questa stringa alfanumerica di Filippo ma questa stringa alfanumerica è una stringa alfanumerica che poi in base a quello che fa Filippo che ci sta dietro apre a determinate opportunità o a determinati layer di privacy bella bella giusto ho visto tra l'altro un video ieri o l'altro ieri che c'era qualcuno che apriva una sbloccava una porta sfruttando la firma del wallet perché all'interno aveva questo token e credevo che fosse un'applicazione legata sempre a real estate quindi il fatto che puoi affittare o puoi comprare e accedi alla stanza alla casa perché firmi con sì è veramente ancora tutto da da scrivere cioè è veramente molto molto presto cioè guardavo anche i dati di un analytics comunque si sta ripulendo un po' tanta gente è entrata cercando di diventare ricca in dieci giorni e poi ha perso tutto ed è uscita subito però il numero di wallet attivi che sono su Ethereum poco più di un milione cioè se conto che io non sono tutto questo grande collezionista ne ho ne ho più di otto di wallet immagino che in realtà le persone che si stanno muovendo in questo momento sono meno di mezzo milione di persone in tutto il mondo quando ci saranno veramente adesso a parte poi il collectible quindi gli utenti di Reddit e altre blockchain comunque stiamo parlando veramente di numeri esigui cioè è una nicchia nella nicchia nella nicchia e l'educazione dai quello che comunque con con tanta passione fai te facciamo noi con questi canali che persone che stanno cercando di far avvicinare è un processo ancora molto lungo se pensiamo a internet era più facile entrare una volta poi c'erano le varie difficoltà gli scami i problemi però una volta dovevi aprire una posta elettronica adesso devi aprirti il wallet io poi sono così come dicevi tu prima pensando all'esperimento di Reddit credo molto nel servizio centralizzato dentro la decentralizzazione per una questione anche di sicurezza per una questione di di usabilità di facilità di ingresso per quelli che sono ancora più però comunque come dici te siamo tutti non fungibili siamo tutti diversi siamo tutti di piccoli NFT e con questo ti ho dato proprio l'assist mi ho dato l'assist più bello del mondo questa me la tatuo esatto e quindi voglio arrivare un po' al tema il tema di oggi che che in qualche modo vuole essere d'aiuto per tutti quelli che stanno lì a pensare ma cosa devo fare devo chiamare uno sviluppatore ho un'idea come mi devo muovere dicevo prima quando ho iniziato io questo percorso mi è venuto un gran gaso cavolo adesso voglio provare a fare qualcosa anch'io ma dove devo partire poi inizi piano piano allora diamo un veloce una veloce linea generale su quelle che possono essere le attività io ho fine di parlare con uno che non ne sa niente io sono qua mi sono aperto il mio wallet ho un'idea creativa voglio fare una collection voglio fare qualcosa quali sono secondo Filippo Chiricotti gli step fondamentali semplici per iniziare a fare un ingresso come creator ma allora diciamo che c'è sicuramente un discrimine tra chi sa disegnare o chi sa creare qualcosa digitalmente e chi no io sono l'esempio pratico di quello che forse ti riesci a disegnare con una matita un uomino stilizzato su un pezzo di cazzo guarda guarda c'ho un'opera d'arte digitale fatta non so se si vede perché forse è un po' perfetta perfetta se si si vede un po' eccola qua questa è la mia art io poi ho un'agenzia che facciamo video io non sono ne ho un grafico cioè facciamo facciamo spot quindi siamo più sulla parte di scrittura non ho capacità di 3D artist o illustratore però mi rendo conto che cioè quella parte lì è una cosa importante ma che comunque può essere ovviata con una collaborazione o comunque uno dice e più che altro è il concept è quello che tu vuoi creare come storytelling come progetto quindi io credo che da una parte sì l'arte è significativa è una delle cose da analizzare anche quando poi uno vuole investire chi c'è dietro ho visto anche cose che sono nate con delle diciamo delle cose imbarazzanti che però hanno creato una community interessante hanno creato un progetto che poi si è sviluppato non ti voglio interrompere scusami certo no 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 ma assolutamente il concetto è tu puoi dividere in queste due cose non queste due strade più o meno diciamo più o meno ci dividiamo tutti chiaramente chi è creator chi ha già una base che in realtà creator ormai è diventato a tutto tondo quindi non è semplicemente un disegno può essere anche un artista musicale può essere anche un artista digitale quindi non devi necessariamente disegnare come noi facciamo carta e penna o la classica più tradizionale diciamo delle forme artistiche in quel caso è più semplice perché hai già il tuo asset da poter esporre e da mettere sui vari marketplace che siano foundation open sea non so you name it quindi qualsiasi puoi caricarlo oggi oggi ne vedevo uno nuovo deca in realtà non è nuovo è molto legato al mondo dell'arte però quindi in realtà utilizzare queste piattaforme dove caricare il file una volta che ce l'è a disposizione è relativamente semplice perché tu prendi il tuo file lo carichi là dentro segui gli step quindi non entriamo nel dettaglio ma seguendo gli step riesci a fare le cose in maniera abbastanza adeguata peraltro puoi anche caricare le collezioni nel caso in cui tu sia un creator che riesce a utilizzare strumenti come Figma Photoshop o quant'altro dando anche giusti tratti quindi caricandoli con i tratti e quindi dando dei veri metadata aggiuntivi al detto di questo però mi sono reso conto che la tecnologia è arrivata ad un punto tale dove grazie a strumenti di AI puoi potenzialmente creare la tua collezione quindi io penso a Mi Journey penso a Dream Studio penso a qualsiasi strumento che permetta appunto un'interazione da un punto di vista digitale con chiaramente un'intelligenza artificiale di sottofondo ci permette di creare dell'arte partendo da un prompt quindi da un'indicazione che sia un prompt scritto un prompt vocale una serie di spunti come ha fatto come è il caso dell'esempio per esempio di Tyler Robs dove con Tyler Robs creavi diciamo la tua arte dando degli input che però erano traci diciamo definire la grandezza la larghezza dell'immagine quanti puntini che colori gradiente poi lui in automatico con arte generativa ti creava l'immagine stessa se però dovessimo scendere ancora di più e prendere un esempio di una persona che ha tanta curiosità tanta passione tanta creatività ma non riesce a disegnarla però ce l'ha tutta in testa puoi utilizzare uno strumento come Mid Journey pagando l'importo il risorio perché costa 9,99 10,99 al mese e producendo appunto dell'arte con arte generativa non solo dando un input testuale ma dando anche degli altri input quindi per esempio prendi una bella immagine la carichi là dentro e poi ci aggiungi il tuo input testuale la differenza qual è? che facendolo tramite un sistema come per esempio Mid Journey pagando quel minimo hai anche l'utilizzo commerciale quindi potenzialmente è tua prodotta dal tuo wallet prodotta dal tuo discord nessuno di vuole rompere le scade ho visto ho visto anche in questi giorni qualcuno che aveva postato delle immagini di avatar tutte tutte uniche tutte originali Fatma e c'era il CEO di qualche metaverso non mi ricordo se era Ready Player che ha scritto ha commentato cazzo che roba quindi è diventata cioè è un programma potentissimo certo certo sì sì puoi fare tranquillamente credo di averla beccata anche io puoi fare tranquillamente creare degli asset digitali e far sì che quelli diventino gli asset del tuo metaverso gli asset del tuo gioco ma con se tu ci pensi con un tempo impiegato in termini di design ridotto all'osso poi è ovvio qua potremmo anche entrare in un discorso etico no? quindi quanto è giusto quanto è giusto utilizzare un AI o meglio sostituire l'AI con un creatore mio personale punto di vista sono due cose diverse tu stai dando in pasto ad un'intelligenza artificiale la creazione di un qualcosa che per quanto tu possa avere un utilizzo commerciale l'utilizzo creativo l'idea creativa manca manca tanto e è quella che rende un artista un artista scusa il gioco di parole ma questo non è vero sì sì questa cosa poi l'ho affrontata anche con alcuni criptoartisti ne ho parlato che con Ivan Quaroni chiaro che dopo c'è una sottile linea su quelle che sono il perché uno fa questa cosa sono due aspetti diversi e dopo tutti i discorsi che si possono aprire sono certo sono rilevanti o meno ma non l'arte andrà avanti sempre comunque poi ci sono programmi che stanno sviluppando anche tutta la sorta di ma fanno canzoni adesso con l'intelligenza artificiale sono paramo film probabilmente certo come dire continueranno a esserci registi continueranno a esserci creativi che comunque lo fanno con un'altra logica quindi il il mid journey dei video già esiste la stanno testando in realtà quindi appena sarà pronto vedremo probabilmente dei mini trailer fatti direttamente comunque detto questo ecco questa parte qua per chi ha tanta creatività ma non sa come esprimerla in maniera disegnata se vuoi la puoi fare tranquillamente con uno strumento dei AI a quel punto ho fatto questo quindi definiti un po definita la prima creatività la differenza ovviamente qua c'è un problema è difficile creare dei tratti quindi è difficile fare in modo che l'immagine abbia dei tratti ripetuti si può provare a fare quindi si può possono prendere queste immagini e poi manualmente inserire se vuoi il tratto all'interno del camminare lo sfondo ad esempio esatto 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 e dandogli proprio un valore diciamo a quell'asse stesso però poi diciamo che questa collezione randomica se vuoi la puoi mintare tramite degli strumenti come per esempio manifold gli strumenti completamente gratuiti dove non hai bisogno di dover scrivere uno smart contract ma ti viene dato uno smart contract unico e a te assegnato quindi con una certa tracciabilità sulla blockchain quindi dimostrabile che sia lo smart contract legato all'nft quindi che cosa accade accade che quindi tu riesci a portare un'idea grafica su uno smart contract creando poi tramite per esempio manifold stesso una pagina quindi creando una pagina di minting ok che ti faciliti la possibilità di far mintare di ricevere degli importi di fare tutta una serie di cose aggiuntive quindi passare dall'idea all'azione se vuoi si fa in una giornata lavorativa forse anche di meno io ho provato a fare una roba di genere raccontandola sul blog il mio blog su mirror mi ci è voluto sette giorni ma semplicemente per raccontare in un post al giorno come farlo e i processi sono molto semplici sono molto veloci chiaramente questo qua ha creato il nostro metamask quindi al netto che noi già abbiamo un wallet con cui poter interagire no? questa attività ti permette di dire quali sono gli outcome che puoi fare se tu vuoi creare domani una community per esempio sei un forte trader ok? dici voglio fare una community su discord che però sia token gated quindi legata ad un token come faccio? in quattro ore di lavoro hai fatto il token ti sei compreso i miei giorni hai fatto il token lo hai fatto mintare la collezione hai creato il tuo discord l'hai fatto token gated tramite i vari collab punto land o le varie integrazioni tipo vulcan sì e solo gli order possono entrare fondamentalmente hai fatto una cosa dove da dove in dodici ore hai abilitato un'opportunità che insomma non è non è per niente pensiamo un anno fa comunque per una persona che voleva entrare in questa cosa fare questa cosa doveva chiamare diverse figure professionali doveva avere lo sviluppatore doveva insomma era molto meno di dominio pubblico poi magari stavano nascendo questi strumenti come altri strumenti che magari uno che invece si diletta riesce anche a fare qualche grafica ci sono poi gli strumenti che riescono a crearti separarti layer e farti il merge ce ne sono veramente ne nascono tanti quindi che questa parte qua prima bisognava usare python fare lanciare lo script collegarlo tutto con lo smart code cioè era una roba adesso come dici tra l'altro aggiungo inseriremo nella descrizione di questo video anche il tuo blog così magari proprio questo argomento che hai dettagliato adesso su mirror una persona se poi vuole approfondire metteremo il link insieme ovviamente al tuo link chiedino comunque i punti di contatto per raggiungerti certo bene quindi direi che con poco oggi siamo riusciti a trovare una bella linea operativa che domani chi adesso ha ascoltato si è gasato si mette lì si compra migiorni ce ne sono tanti c'è da lì anche che da lì migiorni si 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 anche gratuiti per iniziare un po' a fare dei test allora io non mi resta che ringraziarti ricordo sempre a tutti porca miseria di mettere i like a questi video e di iscriversi al canale perché sennò io Filippo Chiricozzi non lo porto più e come lui tanti altri Filippo ti ringrazio grazie a te Eugenio sei stato super chiaro sei stato come dire anche di grande ispirazione mi sono sempre contento perché io in primis imparo da persone che sono appassionate come te e spero di beccarti qualche evento speriamo speriamo non solo virtuale o magari ci cercheremo in vita verso esatto grazie ancora e ci vediamo presto grazie grazie a voi grazie a tutti